Di nuovo buongiorno a tutti, buon lunedì, che dire, l'Italia nelle Parolimpiadi raggiunge 19 medaglie all'ottavo posto dietro ai Paesi Bassi, 5 ori, 4 agenti, 10 bronzi, indubbiamente 6 medaglie sono arrivate dal nuoto, più di 6 medaglie, quindi indubbiamente nel nuoto stiamo primeggiando, sono arrivate medaglie un po' dappertutto, complimenti anche alla nostra saltatrice in lungo con la sua mascherina azzurra, la Spiderman, Parolimpiadi che ci stanno regalando tante medaglie, tante emozioni, ottimi nostri atleti sia nell'atletica, nell'atletica molto bene, sia nella lotta, nelle arti marziali, sia nel nuoto, stiamo veramente facendo una grande Parolimpiade e secondo me stiamo ottenendo un ottimo risultato che ci porterà lontano. Ricordiamoci che le Parolimpiadi hanno messo in evidenza negli ultimi anni quanto sforzo facciano questi atleti per poter raggiungere i loro livelli, puntiamo molto anche sulla scherma, sulla sciavola, c'è tanta voglia di fare, tanta voglia di fare bene, atleti preparati, le Parolimpiadi ci stanno dando tanto, l'ottimo lavoro fatto dai preparatori italiani porta poi a questi risultati, sicuramente questo è una soddisfazione per tutto il movimento che ci sta regalando, secondo me prima della fine ci regalerà ancora tantissime medaglie. Io vi ringrazio sempre per seguirmi, vi dito cliccare in basso a destra, iscrizione è gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!